Paragrafo 16.4, circuito elettrico elementare. L'insieme degli elementi tramite il quale la corrente viene inviata a uno o più utilizzatori, lavatrici, trapani, radio, computer, lampadine, è detto circuito elettrico. Esso viene rappresentato per mezzo di uno schema, che vediamo qui alla nostra sinistra. Il filo di collegamento, solitamente di rame, prende anche il nome di cortocircuito o cavi di collegamento. Quando non vi sono interruzioni, il circuito è chiuso e circola la corrente. Se si interrompe la continuità, per esempio per mezzo di un interruttore, come in questo caso, il circuito è aperto e il flusso di corrente è nullo. Quindi vediamo lo schemino, generatore, interruttore, utilizzatore. I componenti di un circuito elettrico possono essere connessi in vari modi. Qui vediamo l'esempio della connessione in serie, dove vediamo che dal generatore parte un filo che passa attraverso il primo utilizzatore, questo radio stereo portatile, poi il secondo filo che parte sempre da questo utilizzatore, che va a collegarsi con il computer e così via con l'impianta i-fi fino a tornare indietro al generatore. Bene, in tutti e tre i componenti passa la stessa quantità di corrente elettrica. In questo modo avremo la connessione in serie. Cosa significa? Se io interrompessi il circuito in un punto qualsiasi, qui, 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 in qualsiasi punto, cosa succede? Che praticamente tutti e tre i componenti si terminerebbero di funzionare, perché non passerebbe corrente né da questo, né da questo, né da questo, perché io ho creato un'interruzione nel circuito continuo. Mentre qui a destra abbiamo la connessione in parallelo. Connessione in parallelo, i componenti hanno gli estremi in comune, in modo tale da essere sottoposti alla stessa differenza di potenziale. Allora, vedete che cosa vuol dire? Vuol dire che da questo punto a questo punto qui c'è la stessa differenza di potenziale. Quindi tutti e tre i componenti sono collegati con un polo più e polo meno allo stesso polo qui, allo stesso punto, che in elettrotecnica viene chiamato nodo. Quando la corrente parte dal generatore percorre questo primo tratto di file e arriva al nodo, praticamente si smista. Una parte di corrente andrà in questo far funzionare questo elettrodomestico, una parte quest'altra e una parte quest'altra. La quantità di corrente che circolerà in questo, in questo, piuttosto che in questo, chiaramente dipende dalla potenza che assorbe uno per uno questi elettrodomestici. La cosa è certa è che ai capi di questi elettrodomestici c'è la stessa differenza di potenziale, delta V. Qui abbiamo la connessione in parallelo. Cosa significa questo? Che se io interrompessi il circuito, ad esempio qui in questo punto, con un interruttore appresso il circuito, bene, smetterebbe di funzionare questo elettrodomestico, cioè il radio stereo portatile, ma il computer e l'impianto Hi-Fi continuerebbero a funzionare. Se invece interrompessi qui, si spegnerebbe il computer, ma non questo impianto o piuttosto che quest'altro. La stessa cosa se vado a interrompere in questo punto qui, dove ho messo il puntatore del mouse. Se smetterebbe di funzionare l'impianto Hi-Fi, non verrebbe alimentato l'impianto Hi-Fi, mentre il computer e la radio portatile verrebbero ancora a continuare a essere alimentati. Chiaramente se vado ad interrompere qui, o qui, o qui, chiaramente a questo punto apro il circuito e tutti e tre gli elettrodomestici smetterebbero di funzionare. Allora, vediamo qui gli strumenti di misura che servono per misurare all'amperometro la corrente elettrica, l'intensità della corrente, e il volmetro invece la differenza di potenziale, ok? L'amperometro è uno strumento che misura l'intensità di corrente elettrica e deve essere sempre connesso in serie nel circuito in cui si vuole effettuare la misurazione. Quindi l'amperometro praticamente deve essere collegato in modo tale che attraverso lo strumento passi la corrente che passa nell'utilizzatore. Così andremo a misurare quanto vale la corrente che percorre l'utilizzatore, mentre il volmetro va disposto in parallelo all'utilizzatore perché vogliamo misurare i volt che ci sono da questo punto a questo punto a capo dell'utilizzatore.